Vivi i tuoi spazi verdi con Bardin Garden Store. Fiori, piante, tante idee originali e prodotti di qualità per la cura e manutenzione del giardino. Tutte le soluzioni per il relax nell'oasi verde della tua casa. Ti aspettiamo dal 1 al 20 febbraio alla mostra delle orchidee e agrumi. Bardin Garden Store. Servizio e qualità da Bollino Verde.